Riparte dal Real Collegio la seconda edizione del Lucca Book Festival, una manifestazione organizzata dal caffè di Daniela in collaborazione con il Real Collegio. Il titolo di quest'anno è Parliamo di Caffè, un itinerario nei caffè letterari della Toscana. All'inaugurazione che si è tenuta ieri 21 novembre hanno partecipato il presidente del Real Collegio Francesco Franceschini, la madrina dell'evento Laura Bartolini e il professor Paolo Buchignani che ha letto l'incipit del suo prossimo romanzo La Spilla d'Oro. Lucca Book Festival citerà compagnia fino a venerdì 25 novembre con incontri letterari premiazioni e una splendida mostra di tazze da caffè.